Musica La scuola si sta avvicinando con più entusiasmo e partecipazione quest'anno La lì di Cerno Arbusciocia si sta avvicinando con molto calore a questo torneo La squadra è forte, i giocatori validi ci sono La prostituta dirigente è la squadra della mia città, quindi rappresentano i posti in cui io vivo Stanno facendo vari castelloni e varie coreografie Ma fino a prova contraria il Majorana è campione in carica, quindi la squadra da battere è sicuramente la mia città Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.